Ciao, sono Renée Merlo e sono una delle 18 Master Crystal Nace in Italia. Consegui il mio titolo di Master nel lontano 2008, anno in cui decisi di partecipare al primo campus Crystal Nace organizzato in Italia. Da quell'anno iniziai a specializzarmi soprattutto in quella che è la mia più grande passione, e cioè nella struttura. E quindi mi troverai in tutte le Aule Crystal Nace d'Italia, nelle quali insegno prevalentemente i corsi base avanzato, fino a nuove forme e a preparazione gare. Ti aspetto presso tutti i rivenditori Crystal Nace d'Italia per trasmetterti la mia passione.